Quando ci vuole, va? Quando ci vuole, va? Quando ci vuole, va? Ora è? Sì? Voi, sono andata a prendere questo per il bambino. Com'è? Trovate un'amica mia a Dezembro, compri queste pillole che si chiamano Viagra, che per il tuo marito faranno benissimo. E a che senso? Dice che con queste pillole ha letto due, tre, quattro volte. Ah, ho capito, questo è un calmante. E va bene, va bene, se ti fa piacere lo freddo. Poi non ti lamentare, eh? Quando facciamo sette volte va bene, va bene.